Il fatto è accaduto mercoledì scorso ma, a oltre 48 ore di distanza, resta di strettissima attualità. Siamo in via Rita Atria, nella periferia sud di Gubbio, frazione Ferratelle, zona che costeggia la statale 298 e la diacente Cipolleto. Una zona abitata ma dai contorni agresti, con tanti campi lavorati per fine agricoli, nonché area di passaggio di molteplici animali selvatici. Qui, nel pomeriggio del 29 settembre scorso, intorno alle ore 17, un cacciatore, arrivato troppo in prossimità delle abitazioni, nel tentativo di colpire alcuni lepri, ha invece colpito un ottantenne eugubino che si trovava nei pressi della propria casa, ferendolo alla schiena e alla coscia destra, con due pallini, presumibilmente calibro 12, che, seppur senza bucare la pelle perché probabilmente arrivati da circa 60 metri, hanno comportato per l'uomo una scottatura e un rigonfiamento cutaneo, con la figlia che lo ha portato al pronto soccorso del nosocomio di Branca per le immediate cure. Subito sul posto, gli agenti dei carabinieri forestali, pattuglia comandata dal vicecomandante Ubaldo Morganti, e dalle indagini è risultato che il cacciatore si è dato subito alla fuga, nonostante le urla della moglie del ferito. Il giorno dopo, l'indagine investigativa è proseguita, con un altro sopralluogo per la ricerca della cartuccia esplosa, che non è stata trovata, ma sono state reperite due cartucce vecchie a testimonianza di una qualcerta abitudine di taluni cacciatori, in particolare di lepri, nello sparare vicino alle case. Inoltre è stato trovato un pallino all'interno del fabbricato dove abita l'ottantenne ferito, altra prova che lo sparo era prossimo all'abitazione. La legge venatoria regionale, di fatti, prevede che il cacciatore, se spalle all'abitazione, debba sparare ad una distanza di 100 metri, mentre in direzione della stessa può sparare ad una distanza di 150 metri. Le indagini dei carabinieri forestali proseguono dunque al fine di individuare l'ignoto cacciatore, reo di aver ferito l'ottantenne con arma di fuoco da caccia, per poi darsi alla fuga senza prestare soccorso.